Alle mie spalle la solita fantastica installazione di monitor flessibili di LG stiamo proprio per entrare nel loro stand per andare a vedere i nuovi LG Gram e quindi seguitemi e cominciamo da questo LG Gram 17 quindi notebook da 17 pollici all'interno processori Intel Core di tredicesima generazione in questo caso se non sbaglio è un Core i5P quindi andiamo a controllare esatto è un Core i5 1340p ma può arrivare fino al Core i7 ci sono due versioni di questo notebook uno come questo con scheda grafica integrata Intel RSXE l'altro invece con scheda discreta in particolare si tratta di una RTX 3050 che potrebbe sembrare poco ma in realtà qui parliamo di un notebook davvero sottile per essere un prodotto da 17 pollici e soprattutto estremamente leggero pensate un po' che questo LG Gram 17 pesa soltanto un chile 350 grammi nella versione con iGPU e un chile 450 invece nella versione con GPU discreta 80 wattora per la versione con GPU integrata 90 per quella con GPU discreta da 8 a 32 giga di RAM e fino a 1 tera di SSD davvero un prodotto interessante soprattutto proprio per le sue caratteristiche di leggerezza e compattezza nonostante il display da 17 pollici che è un IPS antiriflesso 99% di ICI-P3 fino a 144 Hz e 400 nit di luminosità tra l'altro nonostante la leggerezza e lo spessore ridotto qui abbiamo davvero un prodotto ottimo anche dal punto di vista della resistenza sto schiacciando davvero tantissimo e praticamente non flette nulla qui sulla tastiera quindi un prodotto anche ben costruito ora ci sposiamo e andiamo a vedere la versione da 15 pollici ed eccoci con il modello da 15 pollici LG Gram Ultra Slim display 15,6 pollici diagonale risoluzione full HD 60 Hz DCI-P3 100% lo vediamo qui Intel Graphics Iris Xe quindi scheda grafica integrata e CPU Intel Core i5-1340p quindi Intel Core di 13esima generazione può arrivare però fino al Core i7 da 8 a 32 GB di RAM anche per questo fino a 2 TB di SSD e un peso ragazzi questo io mi verrebbe voglia davvero di lanciarlo 998 grammi meno di un chilo e soltanto 10,99 mm di spessore qui di fianco una USB-C con il cavo di ricarica il jack audio e dall'altro lato altre due USB-C anche queste capaci di ricaricare il notebook ma soprattutto di connettere tutti gli accessori due di questi USB-C sono Thunderbolt 4 in lo specifico quella di sinistra quella di destra invece è soltanto Power Delivery Dolby Atmos per quello che riguarda il sistema di speaker fotocamera full HD con sensori a infrarossi per l'accesso sicuro al notebook tramite Windows Hello ragazzi è davvero impressionante quanto è leggero nonostante ciò è comunque anche abbastanza rigido soprattutto nella tastiera il monitor un po' meno diciamo però non si può certo pretendere chissà che cosa dopo tutto sono solo 998 grammi per un prodotto da 15 pollici davvero incredibile ora mi sposto un pochino perché dall'altro lato vedo anche la versione convertibile quindi la versione che potremmo definire flip ed eccolo qui LG Gram 2 in 1 in versione da 14 e 17 pollici anche qui dentro abbiamo processori Intel Core di tredicesima generazione quindi dei Raptor Lake in versione B quindi con TDP diciamo abbastanza contenuto 14 pollici avevamo 16 decimi il rapporto di forma di 6V3 99% ovviamente touch e ovviamente c'è la pennina che ci permette di scrivere su questo pannello un chilo e 250 grammi che sono pochi non tanto per i 14 pollici quanto perché si tratta di una soluzione convertibile quindi di un 2 in 1 e ovviamente tutta la parte delle cerniere pesa molto di più rispetto al 15 pollici ad esempio che abbiamo visto prima pennina dicevamo con tecnologia Wacom disponibile in due colorazioni black e verde non sappiamo ancora quando e se arriverà sul mercato italiano batteria da 72 wattora fino a 32 giga di RAM e fino a 2 tera di SSD ovviamente non appena ne sapremo di più vi comunicheremo prezzi e ovviamente disponibilità sulle pagine di HD Vlog ma mi posto qui di fianco perché c'è un'altra novità che è l'LG Gram Style guardate un po' guardate un po' qui qui c'è il touchpad che compare solo quando lo sfioriamo cioè la superficie sembra totalmente touch in realtà è touch solamente la parte centrale e le linee che delimitano la superficie touch compaiono solo quando lo sfioriamo molto molto bello devo dire dal punto di vista estetico non per niente LG lo chiama LG Gram Style 16 pollici diagonale il display un display OLED tra l'altro 3200 per 2000 pixel 400 nit fino a 120 hertz di refresh rate Intel Core anche qui di 13esima generazione e anche qui si tratta di processori Intel Core P quindi con TDP fino a 35 watt nello specifico qui abbiamo un Core i7-1360P con scheda grafica integrata Iris Xe Graphics fino a 32 giga di RAM fino a 1 tera anzi 2 tera di SSD fotocamera full HD con sensori a infrarossi per l'accesso sicuro tramite Windows e RAW e batteria da 80 wattora qui di fianco c'è anche la versione da 14 pollici che ha sostanzialmente le stesse caratteristiche che cambia il display che è sempre un OLED ma da 14 pollici con risoluzione 2880x1800 ultima novità per quello che riguarda la famiglia Gram di LG è questo un monitor esterno da agganciare al nostro portatile per estendere la superficie visiva del notebook si collega tramite USB-C ce ne sono due una per lato c'è anche i tastini per alzare e abbassare la luminosità sono 16 pollici di diagonale risoluzione VQXGA è un IPS con finitura antiriflesso 350 nits di luminosità massima DCI-P3 al 99% anche abbastanza leggero 660 grammi che diventano 920 con la custodia e sottile devo dire abbastanza sottile sono solo 8,3 mm come già detto non abbiamo ancora informazioni dettagliate riguardo a prezzo e disponibilità di questi prodotti nel mercato italiano non appena avremo queste informazioni non mancheremo ovviamente di farvele sapere sulle page di H di blog continuate a seguirci fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ovviamente lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao